GABER STUDIO COLLECTION in 48 mesi senza anticipo e in più due anni di supergaranzia a chilometraggio illimitato. Freysenet. Autentica emozione. In un mondo che spesso ha una doppia faccia, milioni di persone hanno scelto AXA perché AXA, di faccia, ne ha una sola. AXA, assicurazioni e investimenti. No, non si tocca. Venite a toccare la nuova collezione Citroen Xara Picasso. Nuovo look, nuovi interni, tanto spazio e tecnologia, climatizzatori, quattro airbag, ABS da 29 milioni e 900 mila. E a novembre Citroen ti fa un'offerta irripetibile. L'HD ha meno del benzina e tanto spazio in più. Ad esempio, Berlingo HDI ha soli 27 milioni e 500 mila. Mentre Saxo ha 16 milioni e 900 mila. È il diesel meno caro e più spazioso. L'offerta scade il 30 novembre. Nei nuovi Maxi Store Medimax c'è l'elettronica che non vedi l'ora di usare. Medimax, i Maxi Store dell'elettronica da vivere. Proraso, barbiere a domicilio.